I residenti della zona mare di Fano protestano per la situazione delle strade Molti anziani dicono sono caduti a causa delle buche Allarme e siccità a giugno in provincia di Pesero Urbino è caduta soltanto un millimetro di pioggia Se la situazione non migliorerà saranno a rischio i prossimi raccolti Bevo molta acqua e poi vado al mare e mi faccio una nuotata Compie 106 anni Bruno Gambini, l'uomo più longevo di Fano Che un anno fa ha sconfitto persino la battaglia contro il Covid Allora benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo appuntamento con l'informazione Sul canale 17 apriamo con la protesta, la protesta dei residenti del Lido a Fano Protesta che verte soprattutto sulle strade, strade che sono con la broto Strade che sono tutte rotte con buche grandi come crateri E raccontano al microfono di Simona Zonghetti che molti anziani sono anche caduti a causa di queste buche Buche come crateri, avvallamenti e marciapiede di velto in più punti I residenti di via Puccini e viale Cairoli a Lido di Fano denunciano lo stato di degrado dell'asfalto E la mancata manutenzione della zona Oltre 10 anni fa, ci hanno raccontato, erano stati eseguiti lavori nella strada principale Lungo le ciclabili e non solo controviale Non in questo però, forse perché era in programma un intervento sulle fognature Ma ancora oggi è tutto fermo, qui hanno precisato è un pericolo continuo in particolare per disabili e anziani La situazione è diventata indecente Questa è una strada abitata da persone anziane In più ci sono gli studi medici dove vengono persone anche disabili C'è la farmacia dove vengono tutti E qui non ci si cammina perché ci sono le buche, nessuno viene Adesso ci hanno promesso che sarebbero venuti nella primavera 2022 Ma non si può passare un altro inverno con una strada così E soprattutto da ultimo hanno mandato delle persone che abitano qui, delle mail Nessuno ha risposto Ci raccontavano anche altri residenti che più persone sono cadute e si sono fatte male Sì perché ci sono le buche e sembra che c'è stato un bombardamento Ma in più veramente è una vergogna perché questo è un viale che porta dalla città al mare È indecoroso anche per il comune D'accordo con la signora Miccioli anche Alberto, residente nello stesso viale Praticamente lo facciamo tutti quando dobbiamo spostarci dal città al mare Lo fanno i residenti, i cittadini fanesi ma anche i turisti E cosa vedono? Vedono un viale che non viene manutenuto Inoltre sono tanti e tanti anni che questo viale deve essere riqualificato Mancano gli alberi, non vengono ripiantati Le aiuole che una volta, mi ricordo, venivano riempite con i fiori durante l'estate Adesso sono trascurate Quindi è un viale che va sicuramente riqualificato Lei qua ha una seconda casa, come valuta questa situazione? Allora, valuto che questa situazione anche per i turisti che passano Ma soprattutto per tutti questi bei signori che abitano qua Tutti intorno agli 80 anni e oltre Abbiano diritto di poter uscire dalla porta di casa Visto che ho domandato, pagano le tasse da un sacco di anni E non mi sembra adeguata per delle gente di quell'età Uscire di casa e rischiare di rompersi una gamba da un momento all'altro Di giorno, di notte e di sera Non si può proprio uscire E quindi sarebbe il caso che il Comune ci mettesse mano Ai marciapiedi e anche a questa che è strada dopo tutto Non fa una piega Uno scontro tra una moto e un'auto è avvenuto oggi intorno alle 12 Una mini countryman guidata da un fanese di 45 anni Che percorreva via dei Platani Intento ad attraversare la strada e di mettersi in via dei Glicini Nel fare questa manovra l'auto si è scontrata con una moto Condotta da un fanese cinquantenne Che transitava in via Mattei in direzione mare Provocando dunque l'impatto Il Centauro è stato portato al pronto soccorso di Fano Sul posto il 118 Due pattuglie della polizia locale Che per evitare il disagio al traffico Ha regolato la viabilità Adesso parliamo un attimo della pandemia Soltanto per il bollettino consueto del giorno I numeri non sono per niente buoni Anzi tutt'altro Intanto l'unico aspetto positivo è che non ci sono decessi Anche in queste ultime 24 ore Però sono aumentati i positivi I positivi infatti sono 52 Questo è un dato assolutamente preoccupante Sono 10 nuovi casi nella provincia pesarese Negli ospedali delle Marche invece ricoverati per Covid Sono 8 Uno in meno rispetto a ieri Scende di uno il numero dei pazienti in semi-intensiva Mentre resta invariato quello dei degenti in terapia intensiva Come vedete dunque aumentano i contagi Ma i numeri per fortuna che riguardano gli ospedali Sono invece in diminuzione E finalmente da oggi ci si può vaccinare anche a Vallefoglia Nella Casa della Salute di Montecchio Lo si potrà fare ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19 Un servizio rivolto a tutti Anche ragazzi dai 12 anni in su Occorrerà prenotarsi attraverso tre modalità Direttamente dai pediatri coinvolti nel servizio Oppure registrandosi nella piattaforma di poste italiane O anche con accesso diretto mettendosi semplicemente in coda E domani, giovedì 8 luglio Aprirà un nuovo punto vaccinale anche a Fermignano Nella sala comunale sotto il palazzo del municipio di Piazza Garibaldi Il punto sarà gestito dai medici di Medicina Generale E le somministrazioni verranno effettuate il giovedì e il sabato Dalle 10 alle 13 Sono state oltre 500.000 le chiamate Arrivate al NUE, si chiama così La cronica di numero unico di emergenza europeo 112 Alla centrale unica di risposta Marche Umbria Dalla sua attivazione avvenuta il 10 dicembre scorso Ne sa di più Letizia Marchionni Sono state numerosissime le chiamate al numero unico di emergenza europeo 212 arrivate alla centrale unica di risposta Marche Umbria Dall'attivazione avvenuta il 10 dicembre 2020 Oltre 560.000 telefonate Cioè una media di 4.200 al giorno Di queste chiamate, circa il 50% Sono state telefonate filtrate dalla centrale unica di risposta Perché chiamate improprie, richiesta informazioni o servizi non urgenti E che quindi non sono state inoltrate alle centrali operative di competenza La centrale assolve in questo modo al suo mandato di mettere le centrali operative Quindi deputate alla gestione delle emergenze Nelle condizioni di lavorare meglio Non essendo più oberati del traffico impropri Uno dei nostri obiettivi è quello di garantire una risposta certa Per quanto riguarda sia la risposta stessa che per i tempi di risposta Noi abbiamo delle tempistiche molto rigide imposte a livello ministeriale In questo periodo abbiamo sempre garantito la risposta entro i 5 secondi Per darvi un'idea di cosa vuol dire rispondere a una chiamata di emergenza entro i 5 secondi L'utente chiama e non fa neanche in tempo a sentire il primo squillo Che sta già parlando con uno degli operatori della centrale E questo è un notevole guadagno in termini di tempo Nel dettaglio le richieste di soccorso sono state oltre 125.000 per l'ambito sanitario Più di 118.000 per la pubblica sicurezza Circa 26.000 per il tecnico urgente E 423 per il soccorso in mare Quelli forniti oggi durante l'open day nella sede anconetana di via Sanzio Sono numeri molto importanti per la cur Sono 40 gli operatori del NUE Ai quali giungono le chiamate digitate dagli utenti al 112, 113, 115 e 118 E a cui presto si aggiungeranno anche quelle al 117 Che provvedono quindi al filtrare le telefonate non d'emergenza Ma anche a identificare l'utente, localizzare l'evento E smistare le richieste alle centrali di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera Tutte le chiamate, indipendentemente dal fatto che l'utente le abbia fatte con un'app o meno Vengono geolocalizzate con la tecnologia delle celle Quindi l'area verosimile di chiamata l'abbiamo già identificata E questo ci aiuta specialmente se le celle sono piccole, vicine Se invece si chiama da un'utenza fissa sappiamo esattamente in che punto si trova la persona Se poi è un utente diciamo un pochino più evoluto che ha scaricato l'app 112 Where Are You Allora in tal caso in qualunque punto si trovi del nostro territorio di competenza Noi avremo immediatamente la posizione geolocalizzata Questo ci permette di guadagnare molto tempo e soprattutto di essere al cittadino Che è il centro di tutte le nostre attenzioni Di essere rapidamente identificato e raggiunto dai soccorsi Spesso i bambini giocano con il servizio d'emergenza E allora gli operatori si trovano a dover fare lo sforzo di cercare di capire Se è un gioco o se è una vera richiesta d'emergenza Qualcuna se ne è verificata di vera emergenza E fortunatamente gli operatori sono riusciti a capirlo e intercettarlo I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona In una zona di Palombina Nuova per spegnere l'incendio di un'auto lungo la Flaminia La persona alla guida è riuscita ad accostare il mezzo a uscire dall'auto Prima che il rogo divampasse La squadra dei pompieri ha spento le fiamme E messo in sicurezza l'intera area sul posto di vigili urbani Per gestire la viabilità Un'estate quella di quest'anno davvero caratterizzata dall'assenza di pioggia Pensate che nel mese di luglio soltanto un millimetro di pioggia È stato registrato, è caduto sulla provincia di Pesero e Urbino E dall'inizio dell'anno invece 150 millimetri Sono numeri, sono dati evidentemente che sono al di sotto della media Angelica Panzieri a Pesero ha intervistato l'ex responsabile dell'osservatorio Valerio di Pesero L'estate è iniziata da poco e sembra essere già rovente La carenza di pioggia anche quest'anno ha raggiunto livelli preoccupanti Con grossi danni per l'agricoltura e l'allevamento Sono in tanti a chiedersi quanto dureranno ancora sole e AFA E soprattutto anche se i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto Saranno caldi come giugno se non di più Ne abbiamo parlato con Alberto Nobili, storico responsabile dell'osservatorio Valerio di Pesero Che sebbene in pensione non ha perso la passione di scrivere la storia meteorologica della città Per adesso è caratterizzata molto dall'assenza di precipitazioni Già a giugno solo un millimetro di pioggia Un millimetro è pochissimo, a giugno mediamente ne cadono sui 60 millimetri Ma poi se consideriamo dall'inizio dell'anno siamo sui 150 millimetri Una media normale per Pesero prevede un 280 millimetri E' un 380 millimetri circa Siamo ben 230 millimetri sotto la media normale Siamo al 40% delle precipitazioni Per i primi sei mesi dell'anno Peggio di così solo nel 1945 Come temperature giugno è stato all'incirca un 26,3 gradi Come temperature massime assolute abbiamo toccato i 35,1 Il 21 e il 30 Abbiamo avuto ben 12 giorni con la minima sopra i 20 gradi Quelle notti dove la minima non scende sotto i 20 gradi Sono definiti notti tropicali Luglio statisticamente è il mese più asciutto dell'anno E' partita un po' più fresco di giugno per adesso Abbiamo avuto anche dei piccoli rovesci specialmente nell'interno A Pesero è stato quantificato in 0,0 il rovescio di ieri Poche gocce subito evaporate Dari prossimi giorni avremo un innalzamento delle temperature Ancora non abbiamo toccato i 30 gradi a luglio Però a metà settimana e già anche da domani Li supereremo anche di parecchio Forse rientreremo in media per fine settimana Per la seconda metà di luglio Per adesso i modelli statistici Ci dicono che se non altro le precipitazioni Rientreranno in media La massima assoluta registrata a Pesero Che speriamo di non toccare Di non variare Risale al 6 luglio 1950 Con 39,2 gradi E l'emergenza siccità riguarda anche i raccolti I raccolti che sono a rischio Secondo Coldiretti occorre migliorare le reti E creare riserve idriche E allarme siccità in questi mesi nella nostra regione E su tutto il territorio nazionale Con una primavera siccitosa E un giugno con zero precipitazioni I problemi legati all'innalzamento globale Delle temperature e cambiamenti climatici Si stanno facendo sentire Come anche la scarsità dell'acqua Bene primario e prezioso A lanciare l'allarme E la Coldiretti Marche Terre secche In tutte le province della regione Spaccature di grande entità nei terreni E prodotti a rischio Tra culture di stagione E futuri raccolti Le culture a rischio purtroppo sono tante Perché dal mais al girasole Che rischieremo di non raccogliere Fino all'erba medica Ma ricordatevi che anche le culture erboree Ne stanno risentendo tantissimo Perché la siccità è veramente importante E anche il sistema allevatoriale Quindi l'acqua per gli animali Nelle stalle bovini e ovini È veramente a rischio Perché l'acqua è poca E di fatto lo stress idrico per gli animali È tanto Ed invece qual è la situazione Nel nostro territorio? Nella nostra provincia La situazione è drammatica È drammatica in tutte le marche Ma la provincia di Peso Rubino Nell'entroterra Nella zona di Acqualagna Dalle ultime medie storiche Abbiamo cali dal 30 Al 50% di piovosità E sulla zona invece costiera Nella zona di Fano Arriviamo appunto fino a cali di piovosità Fino al 71% Nelle altre province della regione Ancona ha visto piogge in calo Del 55% d'aprile E del 65% a maggio Rispetto alla media storica del periodo A seguire c'è Macerata Con il 40% in meno d'aprile E meno 75% a maggio Meno 50% invece a Fermo Ed Ascoli Piceno Ormai queste condizioni Cominciano a essere costanti negli anni Quindi sono cali di piovosità Che si portano avanti da diversi anni Che creano molti problemi Abbiamo d'altro canto Dei momenti dell'anno In cui ci sono delle bombe d'acqua Che creano frani Alluvioni o di lavamenti O grandinate Quindi anche attingendo a fondi Con il recovery plan C'è la possibilità di cambiare Questa situazione Dobbiamo creare degli invasi Perché dobbiamo avere una progettualità Una lungimiranza Perché di fatto queste situazioni Come dicevo Sono diventate costanti Quindi cercare di creare invasi Laghetti Con i fondi del recovery plan Per cercare di approvvigionare acqua Nei momenti in cui l'acqua Ne viene tanta Invece di perderla Potrebbe essere una soluzione Per rimpostare una nuova agricoltura Ma ricordatevi Del bene prezioso acqua Che non è Che mette in pericolo Anche l'agricoltura Ma mette in pericolo Anche l'approvvigionamento Per le città Come Fano e Pesaro Che sono in carenza evrica Quindi ci vuole veramente Un appoggio Dal punto di vista Di progettualità politica Una lungimiranza Per salvaguardare Questo bene prezioso Che è l'acqua E dobbiamo cercare Ripeto Di attingere A dei bilanci economici Dei fondi Come il recovery plan Per portare Delle opportunità Alle imprese agricole Ma anche Al comune cittadino Perché l'acqua Come bene prezioso Negli arco del futuro Mancherà ancora di più E allora vediamo Come il comune cittadino Affronta queste giornate Di caldo intenso Il caldo tipicamente estivo Di questi giorni Non scoraggia i cittadini Alcuni di loro Ci hanno raccontato Come lo stanno affrontando Io ho una casa con il giardino Chiudo le finestre Rientro a casa dopo il mare Sto benissimo Io ho la fortuna Di avere la via dove abito Molto ventilata Quindi sto benissimo Io non ho problemi Il caldo Sto bene lo stesso Non ho la casa col giardino Ma in compenso Ci sono i climatizzatori In casa I medici raccomandano Di bere molto Lei lo fa? Normale C'è un piccolo Ventilatore Ma siccome siamo Io e mio marito Ognuno se lo Se lo prende I medici raccomandano Di bere molto Lei lo fa? Secondi giorni Ecco Un giorno bevo molto L'altro giorno Insomma Bevo molta acqua E poi vado al mare Mi faccio una nuotata E adesso c'ho la bambina Che mi porta Spasso lei Poi io sono stato uno Che sono stato in Arabia Saudita Perciò il caldo Mi fa Mi sta bene Si va giù al mare E si beve lì A casa tiene il ventilatore? Niente 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 Perché a casa Non ci stiamo mai Né io Né mia moglie Tantomeno i figli E quindi Facciamo la vita da signori Stiamo fuori E ce la passiamo così Così come sono Sopporto E vado avanti Al mare ci va? Ci voglio andare Ma non ci vado Spero di andarci Esco la mattina Le 5 e mezza Faccio due chilometri Di camminata E poi Sto bene tutto il giorno Ecco Al mare ci va? Adesso Adesso Sto andando Allora c'è un altro incidente Di cui dobbiamo rendervi conto Un incidente che è venuto poco prima Delle 9 di questa mattina Lido di Fano Secondo i primi rilievi Un fanese di 58 anni A bordo di una moto Honda Stava percorrendo via Carducci In direzione Monte Quando Nel tentativo di evitare un ciclista Un milanese di 75 anni Che stava percorrendo via Madonna a mare In direzione sud In senso contrario Ha frenato bruscamente Cadendo a terra Non si sono feriti Per fortuna Però insomma Sul posto È intervenuto la polizia locale Adesso invece Festeggiamo Insieme a voi I 106 anni Di Bruno Gambini Che è l'uomo più longevo Della città di Fano E che Pensate Un anno fa È riuscito a sconfiggere Persino il coronavirus Letizia Marchioni Non è vecchio Ma bensì antico Soffia su 106 candeline Nella casa albergo Famiglia Nova di Fano Bruno Gambini Che mantiene il titolo Di uomo più longevo Della città Nato a Rosciano Nel 1915 Ha lavorato come agricoltore E poi nelle ferrovie Dello Stato Gambini ad oggi Con due figli E quattro nipoti E undici pronipoti È stato sposato Per ben 61 anni Con Luisa Ormai defunta Di cui è sempre stato Profondamente innamorato Nell'esperienza Acquisita in tutti i suoi 106 anni Bruno Ha aggiunto alla lista L'anno scorso Un'importante battaglia Da cui è uscito vincitore Quella contro il covid-19 Ed ora Ci dice commosso È più che in salute Sono ancora forte Io ancora sono forte Ma sono molto contento Di vedere Tutta questa gente O ho fatto il bene O il male Non importa Qual è il suo segreto Per essere arrivato A ben 106 anni? Il mio segreto Ho lavorato molto Sono stato sempre bene Ho mangiato A mangiare E regolare Non fare quelle sfalsate grosse Perché fa male A mangiare molto A mangiare piano piano Per noi è un onore Accogliere Bruno Presso la nostra struttura E avere l'uomo più longevo di Fano Per noi è esattamente Un'istituzione Ormai da diversi anni Ed è anche un esempio Per tutti Per la tenacia Con cui ha affrontato Anche momenti molto difficili E siamo contenti Di averlo con noi E di trovarlo tutti gli anni Così in forma Speriamo di Darci appuntamento All'anno prossimo Mi hanno voluto Tutti i vedi Non so perché Se Dio vuole Io spero Io ho salato sempre Dio Perché È il padrone del mondo Dio È il padrone del mondo A festeggiare Assieme a tutti gli amici Di Famiglia Nova C'erano anche Le due figlie di Bruno Graziella e Nadia Averlo fino a questi anni Fino a quest'età Siamo orgogliosi Sì in buona salute E poi ci riconosce Un minimo di dialogo Riusciamo ad averlo Quindi è ancora lucido a volte Ha pensato sempre solo Per la famiglia Non ci ha fatto mai mancare niente Affettuoso Anche con nostra madre E quindi Siamo contenti Siamo felici Di averlo avuto come padre Ha passato guerre e pandemie Ed ora è ormai diventato Una figura fondamentale Per la casa albergo Famiglia Nova Oggi in festa Con tanto di spumante Torta E regalo Da parte dell'amministrazione Comunale Fanese Consegnato dall'assessore Ai servizi sociali Dimitri Tinti Rappresento Non solo l'amministrazione Ma in questo caso Davvero Tutta la comunità Che Simbolicamente Vuole abbracciare Bruno Gambini Per tutta la vita Che ha vissuto Per la famiglia Che ha costruito E per anche il messaggio Che oggi ci lancia Davvero Di semplicità Di ironia E di Buon umore Alla fine Secondo me Sono segnali Che danno anche Una bella iniezione Di fiducia In una comunità In un contesto Che vuole ripartire Tanti auguri A Bruno Tanti auguri A te L'Italia vola Verso la finale Una vittoria Quella ottenuta Ieri sera Dagli azzurri Contro la Spagna Che ha portato A riversarsi Nelle strade E piazze Sia faresi Che pesaresi Un mare di tifosi Che con i sorrisi Stampati sul volto Hanno celebrato In migliaia Con fumogeni Bandiere Vuvuzela La nazionale italiana Guidata dal Marchigiano Roberto Mancini E ora Inizia La grande attesa Per la finale Degli europei In programma Per domenica Sera E queste sono Le immagini Dei festeggiamenti Subito dopo di noi Le previsioni del tempo Poi uno speciale Approfondimento Sulla rassegna Impronte femminile Con l'assessore Alle pari opportunità Del comune di Fano Sara Cucchiarini L'informazione Torna domani mattina Alle sette Con Occhio e giornale Arrivederci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada